allora sono qui con Michele Raia i cambiamenti climatici sono finiti un tema molto importante molto attuale è un libro che è diventato subito il numero uno nelle classifiche di Amazon innanzitutto Michele come ti senti? io sono molto contento e molto felice di questo risultato che speravo da tempo in effetti voglio ringraziare subito tutti quelli che mi seguono sui social ovviamente e spero che il libro rimanga in classifica il più lungo possibile cosicché anche gli altri possano caricarlo e informarsi di questa grande novità che ho voluto portare in effetti spero che anche l'opinione pubblica mi seguirà su questo discorso e tutti gli ambientalisti anche che mi daranno una mano in questo senso perché diciamo del mare si parla poco e male in realtà dall'altra parte c'è un ecosistema marino che sta avendo delle difficoltà e noi sappiamo che il mare è quello che regola la temperatura globale quindi se in questo momento ha difficoltà sta chiedendo il nostro aiuto e noi dobbiamo essere pronti a soccorrere e a garantire quindi il suo funzionamento certo certo detto è un tema molto molto importante ora nel parlarci nello specifico appunto di cosa racconti nel libro perché affermi che i cambiamenti climatici sono finiti? sì infatti il titolo è già tutto riguardo ai cambiamenti climatici e il modo per fermarli definitivamente e in effetti io ho racconto una serie di argomentazioni e anche di dati nell'ambiente in cui viviamo già a partire da 2-3 anni fa e li ho riacchiusi in questo libro per far conoscere a tutti diciamo questa mia teoria che secondo me darà una grande mano per la risoluzione definitiva dei cambiamenti climatici in effetti i governi stanno facendo ben poco e tra l'altro hanno intrapreso la strada sbagliata perché pensano che l'abbassamento della nitrite carbonica possa risolvere il problema in realtà non è così perché c'è dall'altra parte l'ecosistema marino che sta soffrendo per le solite operazioni che l'uomo compie ogni giorno in pratica la navigazione selvaggia che sta portando dei gravi problemi e delle conseguenze su tutto il pianeta quindi c'è bisogno di frenare e di dare un regolamentare la navigazione per poter mettere fine a questo problema i cambiamenti climatici purtroppo possono essere minimizzati se solo ognuno di noi potesse fare qualcosa percorrendo la giusta strada è possibile minimizzarli e risolvere in breve tempo poi questo problema cosiddetto certo 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 ora tu hai scelto un libro per punto per divulgare questa tua esperienza queste due informazioni qual è il percorso che hai creato per chi poi leggendo il tuo libro vorrà magari saperne di più o far qualcosa insieme a te eccetto io ho creato un percorso ad hoc per al fine di educare le persone informale del problema per cui chi vorrà potrà seguirmi su social e potrà chiedere qualche ora di coach in cui gli spiegherò e gli toglierò ogni dubbio e perplessità sull'argomento io ritengo che la formazione sia qualcosa di molto importante da questo punto di vista e formare e condividere le mie idee con tutti gli abitanti della terra sarebbe veramente qualcosa di straordinario per minimizzare risolvere questo problema in breve tempo è veramente una bella missione una quella che hai veramente far arrivare il tuo messaggio a miliardi di persone come sempre è l'ideale no questo abbiamo visto se ne parli oggi sulla stampa sui giornali e greta e il climate change insomma anche hashtag molto molto seguiti sui social quindi sicuramente si può fare un bel lavoro se tutti danno una mano nel far passare questo passato infatti sto anche pensando di di creare una hollus in un prossimo futuro grazie a tutti quelli che diciamo capiranno il mio messaggio che voglio lanciare e no che si occuperà appunto di educare le persone di educare la maggior parte di persone possibile quindi parliamo di milioni di persone sulla terra molto molto bello ti devo mettere in contatto con un altro nostro autore luca di gaetano che ha creato plastic free appunto una onlus che sta facendo un grande lavoro sicuramente la conosci per pulire dalla plastica io nel libro parlo anche della plastica del problema della plastica infatti ho riportato dei dati reali sulle condizioni della fa perché la plastica aumentare la temperatura del mare quindi c'è un contatto diretto con questa queste diciamo questo grave problema che poi si è venuto a creare nel corso dei decenni certo 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 devo dire un problema di cui hanno parlato proprio in questi giorni con il lancio del tuo libro ho tantissime testate giornalistiche agenzie di stampa e stanno uscendo articoli su articoli questo mi fa molto piacere e quindi l'ultima domanda è come mai hai scelto bruno editore per pubblicare il tuo libro ho scelto bruno editore perché ritengo che questa azienda sia una garanzia infatti ho fatto un corso già con voi nel 2017 sempre inerente alla alla pubblicazione di libri per quanto riguarda gli altri ci sono tantissimi editori però nessuno ti garantisce nulla e poi dietro al libro c'è sempre un grande lavoro purtroppo da fare e ne sono felice perché diciamo ho capito che la vostra azienda è molto competente da questo punto di vista e ci sono dei professionisti e anzi colgo l'occasione di ringraziare quelli che mi hanno seguito da claudio a mariele a roberto bizzarri sono stati tutti molto gentili con me da questo punto di vista e infine voglio lanciare un appello affinché diciamo il maggior numero di persone possibili mi seguiranno si informeranno di questa mia iniziativa e scaricheranno e condivideranno tutto il materiale possibile solo in questo modo cioè con la il coinvolgimento di massa solo in questo modo potremmo veramente dare un contributo importante alla dimensione della temperatura sulla terra e quindi voglio ringraziare a tutti quelli che collaborano grazie bene bene grazie intanto per i tuoi ringraziamenti e facciamo un appello insieme quindi le persone che stanno guardando in questo momento condividete andate su amazon cercate michele raia i cambiamenti climatici sono finiti perché è un libro che veramente può ispirare milioni miliardi di persone in tutto il mondo può dare strategie per risolvere un problema davvero molto grande quindi grazie a tutti e grazie michele per essere stato qui con noi ciao